Diamo ora lettura delle informazioni che scenderanno in campo tra pochi minuti, ricordando che l'arbitro è il signor Giovanni Meloni della sessione di Carbonia, che sarà coadiuvato dagli assistenti il signor Gianluca Adelia della sessione di Ottieri e Riccardo Pazzona della sessione di Cagliari. Il Parma Calcio 1913 scende in campo con il numero 1, Tommers, 2 Messina, 3 Ricci, 4 Corapi, 5 Penassi, 6 Lucarelli, 7 Melandri, 8 Miglietta, 9 Longobardi, 10 Baraje, 11 Sereni. A disposizione dell'allenatore signor Luigi Apolloni il numero 12 Falli, 13 Adorni, 14 Caccioli, 15 Simonetti, 16 Mulas, 17 Quazzo, 18 Mazzocchi, 19 Lauria, 20 Musetti. L'FC Legnano Salus risponde con il numero 1, Damian Cipulco, 2 Enrico Chiarini, 3 Rodolfo Cifarelli, 4 Mattia Falchetto, 5 Emanuele Friggi, 6 Cristiano Pigolin, 7 Andrea Tessari, 8 Massimiliano, 3 Solti, 9 Antonio Brozo, 10 Luca Viviani, 11 Pietro Martino. A disposizione di mister Andrea Orecchia il numero 12 Matteo Pizzeri, 13 Alberto Dalbianco, 14 Matteo Manganotti, 15 Joseph Fedor, 16 Emanuele De Vence, 17 Serge Cess, 18 Lorenzo Borin, 19 Nicolò Chiau, 20 Adriano Bernardes. Grazie!